e quindi al bar sport di vezzano ci sono le bariste più belle del mondo dico bene di sicuro bar sport di vezzano sul croston dico bene come si chiama che non ricordo se sia una di quelle con no per meno come si chiama me lo rivela io Elena sono un giornalista che racconto storie quindi se anche venissi al bar adesso a raccontare con il suo viso la sua storia so già la risposta mai con uno sconosciuto dico bene e qui da Marco Casoni che mi racconta le sue difficoltà con le donne davvero curioso buongiorno nel suo esercizio commerciale entrano tonnellate di donne e lui insomma non ne profitta non ne profitta vogliamo di non aver dimenticato le chiavi è ok che sono qui 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 Grazie.